Everywhere I go, just know where I pull out Naturalmente, bronze to pro Ma dai, ma perché mi danno tutti questi bellissimi shotgun? Ma è una congiura, vedi? È una congiura Quando non vuoi la mozambica ci sono solo mozambiche in giro Quando la vuoi basta, ti danno tutti gli shotgun del mondo Oh no, dove c'è la sensibilità? Una maria? E' buon cane Oh no, just guard it up And let down my gun Perchè! 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 No! Non sarà affatto facile con una sola Mozambique! E lo credo bene! Cioè più che altro ho 6 colpi e poi li devo ricaricare ed è praticamente... Cioè non è praticamente possibile! Si può killare qualcuno con 6 colpi di Mozambique però! Oh cazzo! Vale prima di loro che sono pariti prima loro! No ma comunque hanno levato la gioca e boz viola si dove Sì Dai Ai si resti in da Ah, se l'ha a craftare! Chiedo perdono, chiedo perdono. Vai crafter, là. Non c'è la craftare. 6 colpi in mozza mica, 111 da caricare. Noi abbiamo... Mozart Big Bullets for Days. E batteriamoci. Vieni qua, figliolo. Vieni qua. Vieni qua. se puoi impulsarlo, sembra abbastanza buono no, non è stata una bella, è stata lentissima ragazzi, ho dovuto cercare il personaggio tutto il tempo, eh, ne è riuscito il tempo adesso la facciamo un po' più, un po' più cattivante promesso, promesso nel posto della mozza mica di riconoscere Krabber, cosa succede? eh, che lo sai Josep? via, vado, vado, sono morto grazie a tutti grazie a tutti